Adesso l'onore italiano Deve essere un po' più di là Sì, sì, sì Elena, da quanto tempo sei in Sud America? Da cinque giorni Cinque giorni Però hai già potuto conoscere un po' della cultura sudamericana? No, non so, ma vero Ma qualcosa, sì Attraverso voi Diciamo, il danzo non l'hai conosciuto? No Da nessuno di noi? No Però sei qui in Sud America per proprio conoscere la nostra cultura, no? E sei aperta anche a questa Ho paura di rispondere Allora, ti facciamo conoscere il danzo, ok? Però deve essere anche libera per farlo Allora, ecco, questo è il danzo Ehi, ma zi Bravo